ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a spulciare oggi è il tutima m2 coastline m2 coastline già il nome dice che per la costa coastline o un orologio da da mare dall'ambiente acquatico ma non un diver in effetti io l'ho scelto proprio per quel motivo lì perché l'ho subito visto in vetrina lì che è un orologio dall'aspetto tool watch un orologio strumento senza ghiera con un'elevata impermeabilità e con quell'aspetto così satinato così da attrezzo da usare tutti i giorni in condizioni particolari anche estreme volendo e che mi ricorda anche altri orologi per cui rientra nei miei gusti e ho deciso di portarlo sul canale chiaramente me lo ha messo a disposizione il buon giacomo che è il titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è partner ufficiale del canale concessionario del marchio e ce li ha a disposizione quindi basta che li contattate e poi c'è anche altri marchi orologio quindi che rientra completamente nei miei gusti l'ho scelto senza sapere neppure quale fosse il diametro le misure le caratteristiche tecniche vere e proprie no lo vengo in vetrina dici questo qua è un orologio che può che posso portare sul canale perché secondo me ha qualcosa da raccontare sono qui apposta per raccontarvelo ora prima di girare la camera vi voglio mostrare l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo rolex digest 41 acciaio e oro con il quadrante nero calibro 32 35 simpatico orologione con tutti i suoi begli indici con il chromalight che reagisce molto bene al buio in acciaio e oro è un pochino così no come si suol dire da da gipsy eh da da persona un pochino sopra le righe però a noi ci piace a me piace molto questo orologio ogni volta che lo indosso al polso stacca fa proprio la sua bella figura poi la qualità c'è tutta la senti proprio quando ti lo prendi per regolare l'orario fai ruotare le lancette e dici cavolo come 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 gira liscio questo calibro proprio la qualità c'è c'è poco da dire benché rolex sia anche bistrattata quello che volete ma la qualità negli orologi c'è adesso giriamo la camera veramente diamo un'occhiata al coastline e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni personali diamo il via alla usuale litania che va ad iniziare ogni mia recensione diametro cassa 43 mm spessore 13 mm ingombro trasversale al polso 43.9 e interasse ansa da 20 mm misura in linea con lo spirito militare sportivo dell'orologio in questione occorre fare alcune precisazioni il diametro consistente gli conferisce una certa presenza per contro il lug to lug contenuto gli permette di appoggiarsi con grazia sopra ogni tipo di polso è vero che i finali bracciale sono rigidi ma scendono repentinamente verso il basso e danno la capacità di avvolgere subito anche i polsi più esili teniamo presente che stiamo parlando di un 300 metri dato che troviamo solitamente sui diver duri e puri di conseguenza la robustezza e la solidità si riflettono sulle dimensioni della cassa e del fondello c'è poi da considerare che si tratta di un orologio in stile bracciale integrato nonostante ciò ho specificato che il passo ansa è da 20 mm in quanto osservandolo da sotto si evince che esiste lo scasso per poter mettere un cinturino qualsiasi di quelli normalmente in commercio ora non mi è dato sapere quale possa essere il risultato estetico andando ad utilizzare un normale cinturino in quanto è vero che a catalogo esiste anche la versione cinturinata ma si tratta di una tipologia di cinturino su misura che si integra perfettamente alle linee della cassa linee della cassa che ci restituiscono un design piuttosto particolare una sagoma tonneo che unisce la capacità di apparire morbida e tondeggiante dallo stesso tempo sfaccettata e spigolosa questo grazie all'incrocio di superfici inclinate che si uniscono dando vita a spigoli ottusi particolarmente dilatati dall'alto vediamo una sorta di ondeggiatura altalenante mentre di profilo una sorta di brusco monoblocco in tutto condito da una generale opacità figlia della spazzolatura presente su ogni superficie insomma un orologio completamente satinato proprio come ci si aspetterebbe da un tool watch ancora più apprezzabile se pensiamo che si tratta di un orologio in titanio è quindi leggero maneggevole bene indossabile ma sicuramente più complicato da rifinire a dovere come in questo caso allo stesso modo appare al quanto insolito il sistema utilizzato per collocare il vetro zaffero piatto come si vede non è presente alcun tipo di lunetta e sembrerebbe non esserci nessun tipo di rialzamento in realtà ingrandendo un poco si nota un sottilissimo bordo rialzato che fa parte del corpo cassa il suo scopo è quello di fungere da contenitore e guida per l'inserimento del trasparente parlando di sottigliezze non si può fare a meno di menzionare una finezza tanto superfluo quanto apprezzabile ossia quel sottile pregevole bisello nel bordo inferiore laddove il lato carrur va ad incontrare il fondello fondello piacevolmente chiuso che mette in mostra un basso relievo che rappresenta una sorta di rosa dei venti in bella evidenza apprezzabile soluzione in luogo dei soliti fondelli trasparenti conferisce solidità e visivamente fortemente coerente con la resistenza alle 30 atmosfere prima citata risulta quasi ovvio che sia solidamente avvitato alla cassa così come lo è la corona e qui troviamo un'altra particolarità ossia che non sono presenti spallette di protezione andando così a segnare un altro punto di differenza rispetto alla versione diver dell m2 vi è comunque una sorta di protezione in quanto la corona è leggermente affogata nel corpo cassa quanto basta per bloccare l'effetto leva provocato da un eventuale urto laterale visto che siamo nei pressi del lato b occorre menzionare velocemente quale tipo di meccanismo si nasconde al di sotto ebbene si tratta di un semplice quanto in solito eta 28 36 ossia la versione day date del noto 28 24 un calibro di fornitura esterna che tuttimo utilizza sui suoi modelli base mentre per i modelli top di gamma si affida ai propri movimenti in house c'è poco da aggiungere se non che si tratta di un meccanismo che fa il suo ma rotiamo l'orologio e diamo lo sguardo al lato a qui troviamo tutti quegli ingredienti tipici dell'orologeria teutonica austerità essenzialità e pragmatismo un ampio quadrante che presenta un fondo nero opaco sul quale spiccano per contrasto cromatico dei semplici indici rettangolari indici che in realtà sono composti da due separati elementi una base piana dipinta e una sovrastruttura in rilievo realizzata in superluminova ad indicarci l'orario ci sono invece due sfere matita ben dimensionate e facilmente individuabili insomma il tutto è chiaramente funzionale ad ottenere una elevata leggibilità e la missione palesemente riuscita nessun riflesso fastidioso e lettura praticamente istantanea l'unico dettaglio che esula dal minimalismo è quella sfera dei secondi ben presente ed in rosso scuro appare quindi ben visibile e riesce a farci capire al volo che l'orologio sta marciando correttamente la scelta del rosso mi trova pienamente d'accordo in passato mi sono capitati orologi nei quali la sfera dei secondi bianca e spessa poteva essere confusa con le altre lancette soprattutto al colpo d'occhio qui no vi sono poi altri due particolari da evidenziare il primo è il rio inclinato un dettaglio che conferisce profondità al quadrante senza andare a caricarlo di superflui orpelli in rilievo e secondo la finestra day date questo è uno di quei casi nei quali la simmetria viene poco intaccata in quanto la sua presenza non sembra spiccare più di tanto il fondo nero dei dischi giorno e data gli conferisce la capacità di mimetizzarsi sufficientemente senza evidenziare un eccessivo stacco tra fondo quadrante e finestra stessa va da sé che ci saranno sia i detrattori della soluzione day date e gli amanti ad ognuno il suo la conseguenza di si fatta leggibilità la si può osservare anche nel momento in cui si passa la prova al buio in assenza di luce sia gli indici che le sfere rispondono in maniera egregia restituendoci un quadrante perfettamente comprensibile concludiamo la panoramica andando ad esaminare il bracciale e lo si deve fare partendo dalla cassa trovo alquanto indovinato il design dei finali che si integrano alla cassa con quella dolce millimetrica curvatura a chiudere tra l'altro occorre evidenziare che il sistema di fissaggio vede un perno passante con i fori sull'esterno della cassa un misto di all style e sapore tecnico che non guasta mai per quanto riguarda il design ci troviamo di fronte al classico stile con le maglie ad h intervallate da segmenti a cuscino che vengono tenuti in sede da perni a vite un sistema considerato di pregio che qui trova il suo culmine nel fatto che si tratta di un bracciale in titanio con le derivanti difficoltà realizzative delle varie filettature più in generale si tratta di un bracciale la cui estensione mette in evidenza il tipico colore quasi brunito del titanio stesso accompagnato da una spazzolatura lineare che ne evidenzia il sapore tecnico nulla da dire sulla chiusura che anche se non brilla per originalità appare ben solida e strutturata specie la cerniera interna e la prolunga per indossarlo sugli indumenti meno interessante il fatto che la misura vada regolata utilizzando i quattro forellini sulla scatoletta un così bello orologio tecnico avrebbe meritato una regolazione fine automatica possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali orologio che è promosso cosa gli si può dire un orologio di questo tipo è ci sono pochi punti deboli uno dei quali un pochino ma anche un po pretestuoso però c'è da diciamolo un punto debole può essere la chiusura ingegnerizzata del della clasp no se ci fosse stata una regolazione millimetrica automatica sarebbe stata perfetta ma non tanto perché quei forellini non si riesce a regolare anzi è un sistema abbastanza rapido no meno male che ci sono ma perché per il concetto un orologio così tecnico così ben fatto così tool watch una chiusura di quel tipo lino precisa ingegnerizzata gli sarebbe stato il suo sarebbe stato la ciliegina sulla torta invece non c'è una clasp un po così sempre di qualità ma che ha questa piccola mancanza poi c'è anche la prolunga voglio dire la prolunga per per gli indumenti esterni che veramente da serie a una di quelle che anche di spessore ben fatta quindi ci sarebbe stato bene altro punto debole può essere il day date lo diciamo per coloro che non amano questa complicazione sul quadrante giorno e data ed è una complicazione tecnica che volendo può essere indispensabile in un tool watch in un orologio attrezzo che ti deve dire anche il giorno e la data tra l'altro qui si vede anche poco è spicca veramente poco perché hanno fatto un bel lavoro con la mimetizzazione quindi su questo nulla da dire poi per il resto orologio di bella qualità un orologio che a me mi ricorda tuttima io come marchio di glassutte tedesca la paragono sempre ad altri tre marchi che sono abbastanza tecnici abbastanza austeri sobri che possono essere fortis mule glassutte anch'essa piazzata la glassutte tedesca e si sono i tre marchi che insieme a tuttima mi danno quel panorama di orologi tecnici con personalità particolari con elevata resistenza 30 atmosfere tanta roba niente orologio per me promosso con tutto in titanio tutto in titanio che per me non è un plus è il titanio faccio fatica però in questo caso devo dire che il peso non è nemmeno poi così esiguo cioè si sente un minimo si sente lì per lì uno può anche pensare certo se prendi un orologio in acciaio in mano poi prendi questo ti rendi conto della differenza ma così da zero non è poi che poi sia così leggero quindi è proprio in questi casi che il titanio ha senso immaginiamoci se fosse stato d'acciaio sarebbe stato pesantissimo quindi si riduce un po il peso con il titanio senza però azzerarlo no quella sensazione di di vuoto che hai al polso con gli orologi in titanio veramente veramente leggeri questo non fa questa sensazione bello tutto satinato tutto opaco nero ben leggibile 30 metri di impermeabilità corona incassata per essere protetta senza avere le spallette di protezione bello mi piace nonostante i 43 mm anzi grazie ai 43 mm che in questo caso sono proprio azzeccati con un orologio sportivo da situazioni estreme mettiamola così boh mi sembra di aver detto tutto ragazzi e vi ringrazio per essere arrivati fino qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love